Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, approvato in seconda commissione il programma per l'anno 2017 dell'Agenzia Forestale Regionale, sì dei commissari della maggioranza, astenuti quelli dell'opposizione, David Mariotti Bianchi. Presentato in seconda commissione presieduta da Eros Brega il programma di attività per l'anno 2017 dell'Agenzia Forestale Regionale, predisposto dalla stessa agenzia ed approvato dalla Giunta Regionale. Sul documento programmatico dell'Afor hanno votato favorevolmente i commissari della maggioranza mentre si sono astenuti quelli dell'opposizione. È stato il responsabile del Servizio Foreste, Economia e Territorio Montano, Francesco Groman, ad illustrare il documento che ha tra gli scopi principali quello di valutare le dotazioni di progetti, di finanziamenti e convenzioni che l'Agenzia è in grado di attivare e che consentano di mantenere il totale del personale con contratto privatistico composto da 453 operaie e 54 impiegati. Anche per il 2017 ha spiegato Groman questo requisito di base garantito attraverso un plafond complessivo di 37 milioni di euro di fondi a disposizione, di cui quelli destinati direttamente al lavoro eseguito in amministrazione diretta dal personale ammonta circa 22 milioni di euro. Dei fondi per i lavori circa il 70% deriva da fondi comunitari e da un fondo specifico della regione per i quali gli indirizzi di spesa, di progettazione e realizzazione sono già contenuti in atti di indirizzo regionali. Tra i fondi utilizzati dall'Afor per il 2017 è anche uno derivante dalle attività di supporto alla protezione civile, attivato dopo il terremoto e prorogato anche all'anno in corso. L'Afor ha svolto anche attività anti-incendio rivestendo un ruolo fondamentale nei lavori di prevenzione. Per quanto riguarda la prevenzione incendi sono stati effettuati interventi migliorativi su circa 450 ettari di bosco, 300 chilometri di fascia anti-incendio. Interventi, ha rimarcato Groman, che hanno consentito di avere i numeri, infatti, di incendi estremamente limitati rispetto a quelli del centro-sud Italia durante l'ultima estate. All'interno dei fondi da segnalare la quota derivante dalle convenzioni, principalmente attivate con i comuni più grandi, consistente in 5 milioni 700 mila euro, dove l'Agenzia fornisce il proprio supporto per la manutenzione del verde urbano. E sempre in seconda commissione illustrata la relazione sull'attuazione del piano regionale di tutela delle acque, i commissari chiedono un'audizione con la Giunta sull'aggiornamento in atto del piano. Vediamo. Con 5 voti favorevoli dei commissari della maggioranza, Brega, Chiacchieroni, Leonelli, Smacchi del PD e Rometti dei socialisti, il voto contrario di Fiorini, Lega Nord e Liberati, Movimento 5 Stelle e l'assenzione di Ricci, del gruppo Ricci Presidente, la seconda commissione ha preso atto della relazione della Giunta regionale circa lo stato di attuazione della legge regionale 25 del 2009 relativamente al piano regionale di tutela delle acque, in risposta alla prevista clausola valutativa contenuta nel testo legislativo. Prima del voto sulla presa dato del documento e l'invio in aula, relatore sarà il presidente Brega, la commissione ha deciso di approfondire l'argomento attraverso un'imminente audizione con la Giunta che nel frattempo ha preadottato un aggiornamento del piano, attualmente in fase di concertazione. Dal documento illustrativo emerge che negli ultimi due anni sono state affrontate le criticità riguardanti le reti fognarie e i sistemi depurativi degli agglomerati superiori a 2.000 abitanti, realizzando parte degli interventi necessari per rendere gli agglomerati conformi alla normativa comunitaria. Un forte contributo per l'attuazione degli interventi è derivato dalle risorse FAS riconosciute dal Governo. Per quanto riguarda la disciplina regionale degli scarichi delle acque reflue, è stata attuata con l'emanazione della direttiva tecnica regionale approvate nel 2012 e successive modifiche. Il miglioramento della depurazione industriale ha avuto luogo grazie ad interventi adeguatamente sostenuti con opportuni strumenti finanziari. Rispetto alla corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, si è provveduto ad attuare le misure attraverso l'aggiornamento delle direttive tecniche regionali in materia. In particolare, le azioni intraprese sono state finalizzate all'emanazione del regolamento regionale 4 del 2011. Sullo stato di qualità ambientale dei corpi idrici, l'ARPA ha svolto un ciclo di monitoraggio dal 2008 al 2015 che ha portato alla classificazione del loro stato ambientale. Viene evidenziato che al termine del 2015 circa la metà del reticolo idrografico ha raggiunto l'obiettivo fissato di stato buono. La classificazione evidenzia che oltre il 50% dei 137 corpi idrici fluviali, 1150 km su 2180 totali, presenta qualità ecologica compatibile e buona. Per quanto riguarda lo stato chimico, circa 2000 km di lunghezza dei corpi idrici ha conseguito lo stato di buono, mentre il 5% presenta criticità legate al superamento degli standard di qualità ambientale per il mercurio. Sullo stato chimico fisico dei corpi lacustri, dal rapporto pubblicato da ARPA, emerge un quadro aggiornato al 2013-2015, dal punto di vista ecologico tutti i corpi idrici monitorati presentano moderate alterazioni della qualità ambientale che determinano il mancato raggiungimento dell'obiettivo di stato buono. E dopo la pausa estiva è tornata a riunirsi anche la terza commissione che ha esaminato le relazioni sull'attuazione di due leggi, quella che si prefigge di contrastare la ludopatia e quella inerente, gli interventi nell'ambito del fondo per la non autosufficienza. Paolo Giovagnoni. La terza commissione consigliare presieduta da Tilio Solinas ha approvato con i voti favorevoli della maggioranza e l'astenzione delle opposizioni la relazione sulla clausola valutativa della legge 21 del 2014, ovvero norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio di dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nella stessa seduta è stato invece deciso di rinviare di una settimana dopo audizione con l'assessore Barberini e i dirigenti regionali competenti in materia la relazione sull'attuazione degli interventi nell'ambito del fondo per la non autosufficienza in riferimento alla clausola valutativa dell'anno 2015. Per quanto riguarda quest'ultimo atto la commissione ha rilevato che esso consta di dati non aggregabili dai quali non è possibile vincere quante persone non autosufficienti siano state raggiunte dai servizi e di quanto siano incrementate le prestazioni domiciliari. Sulla clausola valutativa della legge anti ludopatia sono invece presenti i primi riscontri di attuazione riferiti al periodo 2016 primo trimestre 2017. È partito il numero verde previsto dalla legge anche se deve essere meglio pubblicizzato visto che da marzo 2016 a marzo 2017 sono arrivate 89 chiamate a fronte di una platea composta da migliaia di giocatori problematici in Umbria. In fase di predisposizione è una campagna che porterà in ogni sala da gioco l'informativa sui rischi del gioco patologico e su ogni apparecchio da gioco un adesivo con il numero verde da chiamare. Audizione in terza commissione sulle implicazioni sanitarie e ambientali legate all'attività degli impianti di smaltimento di rifiuti nell'area dell'Alto Tevere e di Calzolaro. Vediamo. La terza commissione presieduta da Tilio Solinas ha ascoltato i rappresentanti del Comitato Salute e Ambiente di Calzolaro Tresti in Alto Tevere i quali hanno esposto il problema delle forti emissioni od origine nel centro abitato di Calzolaro a 50 metri dall'asilo sprigionate dall'impianto di smaltimento rifiuti della società Splendorini Molini Eco Partner. Sono preoccupati non solo per una situazione che nel tempo ha visto aumentare la quantità e la qualità dei rifiuti conferiti da 20.000 tonnellate di residui alimentari a 50.000 di altro genere ma anche perché sarebbe stata richiesta l'autorizzazione all'incremento di altre 10.000 tonnellate. Lamentano anche l'assenza dell'Auri, l'Agenzia regionale sui rifiuti e idrico all'ultima riunione della conferenza dei servizi sull'argomento e ricordano che nel rapporto dell'ARPA, l'Agenzia regionale protezione ambiente, si parla di criticità relativa alle emissioni od origine. Dopo l'audizione che era stata richiesta dal consigliere della Lega Valerio Mancini, il presidente della commissione, Atilio Solinas, ha affermato che è prioritario tutelare la qualità della vita dei cittadini ed è urgente approfondire la vicenda dato il rischio reale che le cose vadano avanti nella direzione non auspicata. I commissari potrebbero trasformare un'interrogazione sul tema già predisposta dal consigliere del Partito Democratico Marco Vinicio Guasticchi in una mozione unitaria da presentare in aula nella prossima riunione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. In chiusura di questa edizione di Telecru riproponiamo il servizio della consegna di un dipinto ottocentesco alla comunità di Castelluccio in occasione della festa del patrono San Vincenzo Ferreri dello scorso mese di luglio. Tiziano Bertini. La presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi, in occasione della festa del patrono San Vincenzo Ferreri, ha consegnato ai rappresentanti della comunità di Castelluccio di Norcia una artistica riproduzione di un quadro dipinto dal pittore perugino Matteo Tassi nel 1889, raffigurante l'abitato della piccola frazione montana, con un gruppo di escursionisti del club alpino di Perugia che, a piedi e a dorso di mulo, vi si stanno dirigendo. La presidente ha spiegato che il dono dell'Assemblea Legislativa, nel giorno della festa del patrono che riunisce tutti i castellucciani, vuole essere un piccolo omaggio della comunità degli Umbri agli abitanti di Castelluccio, un augurio di pronta e rapida rinascita per un futuro che restituisca questi luoghi ai tanti che li amano, agli abitanti in primo luogo e poi ai moltissimi che negli anni hanno conosciuto ed apprezzato questi splendidi luoghi. La riproduzione del quadro è stata consegnata ai rappresentanti della comunità di Castelluccio nella tenso struttura allestita a ridosso dell'abitato che è completamente distrutto dal sisma dello scorso anno e ha partecipato anche il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. L'iniziativa, come ha spiegato la presidente, è il frutto della brillante idea di Luciano Giacchè, studioso e profondo conoscitore della Valnerina e dei Sibillini, della generosità di Mario Bellucci, studioso ed editore che ha messo a disposizione questo bellissimo dipinto e di Stefano Lazzari, titolare della bottega artistica Tifernate che ha eseguito la riproduzione con mirabile qualità artistica utilizzando la tecnica pictografica da lui brevettata. Mario Bellucci infine ha ricordato che il dipinto di Matteo Tassi fu commissionato dal nonno Giuseppe Bellucci, scienziato, studioso di scienze naturali, appassionato alpinista che, amico di Quintino Sella, fondatore del club alpino italiano, fondò a sua volta la sezione di Perugia di questo sodalizio. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale consiglio.regione.umbria.it e su Youtube. Grazie per averci seguito e arrivederci la prossima settimana.